La Federazione Medici di Famiglia, in una nota, spiega che ancora una volta la medicina di famiglia viene ignorata nei provvedimenti in discussione a sostegno delle imprese e degli studi professionali per sopperire ai costi del caro energia e dell'inflazione. Oltre ad averla dimenticata nei provvedimenti dedicati al ristoro dei dipendenti pubblici per i quali è stata prevista una indennità e una tandem per il 2023, come anticipo sul prossimo contratto pari all'1,5% dello stipendio, è stata esclusa anche dai provvedimenti del decreto aiuti quota a favore delle imprese. Probabilmente non è ancora chiaro che il Medico di Famiglia è un libro professionista convenzionato, assimilabile ad una piccola imprese e come tale tutti gli oneri di gestione del proprio studio professionale sono a suo carico, compresa la presenza di personale amministrativo e infermieristico. Non si comprende allora perché escluderlo dai provvedimenti che prevedono agevolazioni per le imprese e gli studi professionali, dal momento che al contrario di altri professionisti che operano con partita IVA e con costi di gestione a proprio carico, non può adeguare le tariffe delle proprie prestazioni ai costi sostenuti, essendo un servizio pubblico regolamentato da una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, peraltro ferma al 2018. Per queste ragioni la Federazione Medici di Famiglia della provincia di Caltanissetta vuole dare un segnale a tutte le forze politiche, locali e nazionali, che in questo momento stanno discutendo la prossima legge di bilancio, indicendo per il 15 dicembre la giornata delle visite ambulatorie a lume di Candela, per sottolineare le condizioni critiche in cui lavorano i medici di famiglia di questa provincia, senza ricorrere a sistemi di protesta più radicali, che in questo momento di picco dell'influenza stagionale e recrudescenza della pandemia sarebbero contrari al senso di responsabilità verso i cittadini assistiti, che da sempre caratterizza questa professione.